Sì, per quanto concerne il video sui pensieri, diciamo in realtà pensavo al campionato di Serie A che ricomincia dopo la sosta delle nazionali, anche se il mio Napoli giocherà domani lotta a scudetto ormai mancano 8 giornate alla fine, molto avvincente questa lotta speriamo di portarcelo a casa finalmente questo campionato dopo 32 anni addirittura il Napoli non lo vince, vedremo e poi soprattutto diciamo ricominciamo dopo l'eliminazione, la seconda consecutiva come saprete certamente dell'Italia dai mondiali appunto siamo usciti anche in un modo direi proprio brutto insomma veramente fatale, bruttissimo anche la sfortuna più totale prendere un gol così, l'unico tiro della squadra avversaria ma comunque ci rifaremo, le cadute sono fatte sempre per rialzarsi comunque sempre cose in genere per rialzarsi se uno pensa alla nazionale dell'europeo e poi pensa a questa pensa che è un po' impossibile che possa essere accaduto una cosa del genere ma è anche vero che il gruppo direi che si è adagiato sugli allori dopo quella vittoria lì infatti poi dai mesi successivi non c'è stata più quell'unità, non c'era stata in estate in un certo senso è anche giusto che abbiamo pagato in questo modo però io credo che puntando su altre persone, appunto bisogna anche un po' cambiare credo che ci potremmo risollevare e col tempo, perché il tempo per sempre ca tanto uomo e restituisce tutto restituisce tutto ci potremmo rialzare da questa dolorosissima ulteriore eliminazione perché è la seconda consecutiva, non dimentichiamo anche 4 anni fa, quindi per 8 anni quindi questo significa che l'Italia giocherà il prossimo mondiale 12 anni dopo, nemmeno sapendolo perché non si può nemmeno sapere se ci parteciperà comunque 12 anni dopo l'ultima partecipazione che è stata infatti il 2014 tra l'altro poi anche le altre partecipazioni sono durate pochissimo perché poi uscimo direttamente a gironi sia il mondiale 2014 che il mondiale 2010 quindi l'ultimo vero grande mondiale l'abbiamo disputato addirittura il 2006 quindi questo significa che quando giocheremo, se giocheremo sempre il mondiale 2026 saranno passati 20 anni, 20 anni addirittura dall'ultima più grande Italia perché quella dell'Europa è un'eccezione diciamo così infatti sì è un'eccezione e poi sì, comunque Mancini è un grande allenatore sicuramente si li farà, tutti speriamo che si li farà vedremo un po', vedremo un po' sì poi comunque c'è anche questo fatto che si pensa molto più ai club che alla nazionale qui in Italia sembra che la nazionale venga dopo e questo è anche un po' brutto perché questo significa che non miglioreremo mai ma l'Italia è proprio in generale che ha dei problemi non solo sul calcio, l'Italia ha da sempre così come anche altri punti positivi da tempo in altri campi secondo me ci salviamo solo, lo ripeto da sempre, nella cucina, nel turismo e nella cultura poi il resto non valiamo nulla e quindi speriamo di risolverci poi però ci ritorno domani sul Napoli perché giocherà domani sì poi inserisco anche la parte forse del pensiero di ieri che dura 11-12 minuti perché ancora l'ho caricata o comunque non lo so, è sicuro che questo video comunque lo metto separato vediamo un po' dal video tozzo di oggi sì, sul resto non pensavo a nulla come al solito se mi dovessi tenere qualche altra cosa in mente la aggiungo in descrizione e grazie a te again, a domani